A prescindere di incontrarsi e chiacchierare tra noi, chiacchierare tra cittadini, chiacchierare tra genitori e figli, insegnanti ed alunni, perché il senso del tema che è stato introdotto è proprio quello di far crescere una partecipazione, far crescere una consapevolezza che mi sembra già molto forte e sicuramente, questo lo dicevamo prima, prima che iniziassero la manifestazione, sicuramente molto più forte che vent'anni fa o trent'anni fa. Questa è una testimonianza nella quale io riuscito molto, nel senso che non bisogna avere un accoggio nichilista a questi debbi, un accoggio, come dire, fatalista per cui appunto è tutto collezione, è tutta una nuova, non c'è possibilità di migliorare. Questo non solo per una speranza, diciamo, del futuro, ma solo se noi guardiamo oggi a passato perché alcuni di questi territori, e probabilmente anche questo, non sono i territori trent'anni fa e perché, paradossalmente, posso diciamo utilizzare un paradosso fortissimo che fosse vent'anni fa, diciamo, si sparava fuori al paro, insomma, e la gente, diciamo, che magari si trovava la di passaggio e rischiava di morire ammazzato e oggi ci discutiamo di conduzione, non che sia, diciamo, legalità. Però voglio dire, anche ai nostri ragazzi dobbiamo dare il senso interno che hanno vissuto momenti molto bui, che hanno fatto un bel spesso e che naturalmente vivono ancora momenti difficili su cui fare una riflessione.